Cresce l'attesa, lievita l'entusiasmo, previsti più di 8.000 spettatori. Pescara-Catanzaro è il big match del prossimo turno di campionato. Da urlo i numeri dei calabresi, tuttora imbattuti. Attacco più prolifico d'Italia, 39 gol, 2 in più del Napoli, capolista del massimo campionato. Il Pescara insegue a sole tre lunghezze. I Biancazzurri sono senza dubbio la sorpresa, ora splendida realtà del Girone C. Le pressioni sono tutte o quasi sul Catanzaro, costruito per vincere. Completamente rinnovato, il Pescara non deve sopportare, a differenza delle aquile, quello che alla lunga può rivelarsi un fardello, un peso, ovvero vincere il campionato. Se dovesse riuscirci sarebbe un'autentica impresa. Naturalmente l'occasione ghiotta e nel contempo propizia. L'obiettivo è provare a battere il Catanzaro senza tuttavia rischiare di perdere. Match da giocare con intelligenza contro una squadra abituata, come del resto il Pescara, a fare la partita. Fondamentale usare la testa senza snaturarsi. Le pressioni in avanti sono una caratteristica peculiare di Mora e compagni. Sarà adottata la stessa strategia oppure il Pescara cercherà di ripartire e sfruttare gli spazi lasciati da un team incline, a portare tanti uomini nella metà campo avversaria. O magari alternare l'una e l'altra cosa, tutto ciò fa parte del piano gara, lo scopriremo. Intanto sulla via del recupero, sia Pizzari che De Sogus, Crescenzi lamenta un problema alla caviglia, ma Stamane ha ripreso a correre. L'Escano tornerà al centro dell'attacco. Catanzaro privo dell'infortunato Rolando e dello squalificato Gatti. Sunas sta meglio. L'ecografia all'aduttore ha dato esito negativo. Conta di recuperarlo l'ex Vivarini, che negli incroci con la Delfino non ha mai perso tre successi ed un pareggio. Diversamente in preallarme Bombaggi. Davanti Biasci dal primo minuto, sistema di gioco 3-4-2-1. Sfida nel segno del compianto Bruno Pace. Giovanissimo, appena 18enne, prima esperienza da professionista in Cicol Pescara, la squadra della sua città. Da allenatore ha centrato il miglior piazzamento in A nella storia del club calabrese. Settimo posto nella stagione 1981-82. Bruno Pace aveva soltanto 38 anni. Il suo Catanzaro si classificò al settimo posto con 28 punti. Risultato storico. I giallorossi arrivarono anche in semifinale di Coppa Italia, eliminati dopo i supplementari dall'Inter di Versellini, che poi vinse la competizione battendo in finale il Torino di Massimo Giacomini. Pace lanciò Eddie Bivi. Arrivato nell'estate 81 dal Mestre, club di Serie C2. Da esordiente, appena 21enne, ben 12 gol in A. Soltanto tre in meno del bomber della Roma, Roberto Pruzzo. Pace sarà ricordato a quasi cinque anni dalla prematura scomparsa con una gigantografia. Iniziativa davvero lodevole del club biancazzurro. Per onorare la memoria di un uomo di assoluto spessore, per competenza, eleganza, soprattutto ironia. Quella però fine, intelligente, nel mondo del calcio una rarità.